Ciao a tutti e bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo questa splendida tuta della Nike, la Tec, in colorazione giallo scuro e grigio. Veramente una meraviglia! Sei pronto per sfoggiare il calore e il comfort della tua felpa con cappuccia preferita per i giorni di festa pur mantenendo un look essenziale? La tuta Nike Tec Fliess assicura il giusto equilibrio grazie al design leggero a taglio basso che trattiene il calore senza appesantire. Puoi abbinarla facilmente a qualsiasi outfit per il relax a casa o gli spostamenti quotidiani in città. La vestibilità con colare più alto nel cappuccio permette di mantenere la pelle asciutta anche in condizioni climatiche calde o quando piove. Questa tuta è realizzata nell'innovativo tessuto Tec Fliess di Nike che offre calore e leggerezza. Presenta una chiusura con zip interna e un cappuccio fisso a 4 pannelli per una copertura extra. Secondo me questa tuta è stupenda. L'avevo presa per mio figlio ma ho deciso di tenerla io perché è troppo bella. E fatta molto bene nella mia classifica prende 5 stelle il massimo. Tutte le rifiniture sono giuste. Un ottimo tessuto molto caldo che vi terrà caldi d'inverno. E qui in alto vedete il costo che parla da sé non devo aggiungere nient'altro. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e ricordatevi che trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.